Da maggio basta mascherine, basta green pass, basta tutto. Eh, può darsi, chissà che sia ancora questa roba qua, perché mi sembra un po' prolungata il discorso. Eh, è ora. Abbiamo voglia di un po' di libertà. Perfetto, sono proprio contenta. Ci voleva? No, se ne poteva più. E chissà che duri, chissà che duri più che altro. Magari, ci vorrebbe, sì, per tutto il disagio che c'è stato. Benissimo così. E finalmente era ora che togliessero tutta questa c***a del green pass. Ho tre vaccini e ho il green pass. Ieri sera non l'ho presentato, ho buttato via lo spritz. Gliel'hanno chiesto? Sì, sì, mi rifiuto di darlo. Penso che sia arrivato il momento adesso che potrebbero tranquillamente toglierlo, visto la situazione che si sta creando. Abbiamo pensieri, penso, ben più importanti da risolvere che non il green pass in questo momento. Era ora e tutti hanno voglia, diciamo, di ritornare come prima e possibilmente meglio di prima. A me non ho mai fatto problemi, dico, va bene, anche il green pass non mi costa niente farglielo vedere. Se io le vado, pazienza e sennò io le ridavo. Non le cambia molto? Non le cambia niente, no. Bene, bene. Vuol dire che siamo positivi in senso buono. Ci voleva? Sì, ci voleva, almeno tira via un po' di angoscia o di ansia. E vai, ce l'abbiamo fatta. Io già faccio pause. Impossibile. All'aperto già faccio pause. All'aperto. Fino a maggio c'è tempo per avere qualche altra stangata. E avvenuto la stagata. Sassunta a maggio c'è tempo! Grazie a tutti